venerdì 30 settembre 2016 all'auditorium rai di palermo presentazione del film del trainer l'addestratore scritto e diretto dal bravo e giovane regista carlo comito prodotto con la pub image di giusi rannazzo tra i molti ospiti la dottoressa eliana escheri responsabile dei programmi rai sicilia la giornalista patrizia viaggi gli attori toti mancuso e totino la mantia il dottore marcello di francesca l'attore toni carbone la ballerina tipi tap giorgia lorito l'abittrice architetto che ti barbante il ragioniere foto amatore salvatore grasso e gli attori del film del trainer l'addestratore a voi le immagini il film è stato girato con pochissimi mezzi diciamo con mezzi ma si è visto l'impegno il film è stato girato al budget zero è stato realizzato mettendoci insieme un gruppo di amici abbiamo abbiamo fatto questa questa cosa ognuno con le proprie doti le possibilità abbiamo realizzato il trainer come dicevo all'inizio il film io l'ho pensato sono stato una volta trovare riccardo fisica al suo centro di attestamento cani ho visto la location lo definito molto molto bella al che sono tornato a casa e avevo questa questa immagine di questo cane che saltava dalla staccionata insomma ho cominciato a mettere nero su bianco e ho scritto la sceneggiatura tutta in una sera il film parteciperà a festival internazionali è stato presentato il 23 luglio 23 luglio 23 luglio è la mia gentina 23 luglio ai cantieri culturale alla zisa in sala de seta dove sono scesi da roma grazie alla pubblica edizione di usi ragazzo professionisti come il dottor michele bucuzza e neotrovandi caprizio tracone e tantissimi altri altri ospiti hanno sono stati presenti alla prima del film dove abbiamo proletto anche un altro cortometaggio dal titolo 1964 la recuta tratto da una leggenda metropolitana degli anni settanta e stasera qui abbiamo il l'attore protagonista un ragazzo bravissimo che ho scelto nei casting e niente che dire vi ringrazio tutti e spero di continuare così assieme al mio team le musiche volevo dire sono di marco cannilla un bravissimo compositore giovanissimo che va bene stasera io personalmente il direttore della fotografia sono io del film e il fotografo di scena il mio amico Claudio Pezzillo il mio amico del cuore stasera è anche qui che voglio premiare anche lui stasera sono persone che meritano tantissimo perché hanno lavorato senza soldi lo possiamo dire perché non avendo la possibilità abbiamo avuto qualche sponsor che avete visto qua e là all'interno del film che ci ha dato una mano a per quanto riguarda la parte logistica insomma e quant'altro io ringrazio giusto grandazzo che crede nei giovani i progetti dei giovani spero che spero presto di poter iniziare un'altra avventura cinematografica cinematografica con la PubliMage abbiamo già dei cantiere diversi diversi lavori e niente che dire vi ringrazio passo la parola a partire da te in Eroba quattro persone che hanno lavorato con la PubliMage è un'altra avventura Quattro Zab e per voi un cast che dimostra appunto grande professionalità che hanno lavorato con la pubblicità che potrebbe essere un'attività di PRESENTI Bravto Grazie Patrizia rimani sul palco Patrizia rimani sul palco perché Carlo ha pensato che dovrei premiare un'altra persona Vieni Claudio. Grazie Claudio. Perfetto, adesso continuiamo. Qui sul palco adesso dovrà salire Alberto Sciarrino, premia il dottore Marcello Di Francesca. Prego. Alberto. Attore protagonista di The Trainer. Attore protagonista di The Trainer. Attore protagonista di The Trainer della merita ricorda fisica. Riccardo è stato un grande, Riccardo mi ha dato veramente dei consigli. Grazie, allora io sono, è la prima volta che mi succede qui in auditorium da tanti anni e quindi sono un po' imbarazzata ma onorata, ti ringrazio Carlo davvero. Quindi lo apprezzo molto. Onore è tutto nostro. Grazie. E lo accetto ovviamente anche a nome del direttore dottor Salvatore Cusimano che si trova all'Ampelusa per l'Italia che quindi non poteva essere con noi oggi. Ma che ha apprezzato molto il film di Carlo, quindi ovviamente la valutazione del merito artistico sta a lui. Carlo io mi ha fatto molto piacere conoscerlo e da due mesi, lo ringrazio per avermi contattato due mesi fa, da due mesi che collaboriamo per l'organizzazione di questo evento e è andata benissimo. L'ho apprezzato molto il film, ho apprezzato il suo lavoro, è una persona molto creativa e mi ha fatto veramente piacere conoscerlo. Quindi ti ringrazio davvero Carlo per l'attenzione. Grazie, grazie a tutti. Io anche vorrei ringraziare queste due bellissime ragazze, cioè le hostess della selezione del nostro quartiere, del mio amico Salvatore Ricata, nonché... L'ultima targa era per... 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 Aspetta, non dici pensare. Per te. Per Giussi D'Andazzo, sì, Giussi D'Andazzo. Allora, continuo. Grazie. Vi ringrazio. Se fossero a Caglia le avrei la parola. Grazie a tutti. L'ultima, perché non pensavo. Grazie, veramente Carlo, grazie. Io che dire, continuo, la metto qui, che è favolosa. No, la vuole un'altra mano? A foto, a foto. A foto, a foto. E allora, noi adesso faremo su questa bella proiezione un bel servizio, lo manderemo un po' in onda. Adesso non ve ne andate, faremo delle breve interviste, sia col pubblico che con gli attori. Te ne faccio andare su. Adesso non ve ne andate, faremo delle breve interviste, sia col pubblico che con gli attori, sia col pubblico che con gli attori, sia col pubblico che con gli attori. Adesso non ve ne andate, faremo delle breve interviste, sia col pubblico che con gli attori. Adesso non ve ne andate, faremo delle breve interviste.